Ciao a tutti, benvenuti a Pillole di Conoscenza. Oggi, come avete visto dal titolo, è una puntata un pochettino delicata. Si parla di zoccole, zoccoli e zoccolette. Ora voi direte subito, mamma mia, quante sei scurrille ste. No, il problema è ben diverso, in quanto queste parole hanno un'origine ben diversa rispetto all'uso che ne facciamo oggi. Nasce a Roma, questo termine, e soprattutto c'è un rione Regola, dove nel 700 esisteva un convento, un conservatorio, dedicato ai Santi Clemente e Crescitino, un nome che mi dimentico sempre, e è dedicato questo conservatorio all'accoglienza di giovani ragazze rimaste orfane da entrambi i genitori o da orfani di sola madre. Quindi erano ragazze mater ignota, di mater ignota, che da cui, da mater ignota, sembrerebbe, si fa derivare, diciamo, la parola cattiva, di mignotta. Questo è importante per il continuo della storia. All'interno di questo convento, le ragazze venivano, diciamo, possiamo dire, era una specie di prevenzione, venivano accolte in questo convento per evitare che facessero cattive scelte di vita, quindi prendessero la strada della prostituzione. All'interno di questo convento, queste giovani orfane facevano, costruivano zoccoli, molto probabilmente, e ovviamente li indossavano. E' un po' come tutte quelle, come si diciamo, come un autofinanziamento, ce ne sono tanti casi di comunità che si autofinanziano producendo oggetti caratteristici, no? Ecco, loro, diciamo, nel 1700 producevano zoccoli. Qui, voi immaginatevi che era un capo di abbigliamento abbastanza normale, e quindi se ne faceva largo uso. E quindi diciamo, dove devi andare a comprare i zoccoli? Vai dal zoccoletto, fine da discorsione. E quindi quelle ragazze, che erano orfane, figlie di madre ignota, erano chiamate zoccolette. Quindi, da cui poi, successivamente, in termini dispregiativi e legato all'uso di, attuale, di madre ignota, hanno fatto sì che si venisse a trasformare in zoccole e quindi abbinare la parola zoccole alla parola prostitute, in pratica. Questa è la storia di questa parola e zoccolette è una via, appunto, di Roma, molto famosa, però di cui molti non sanno neanche le origini. E non era l'unica volta. Roma ne ha molte di queste singolarità, queste curiosità, che andremo a analizzare pian piano nelle altre puntate. Per il momento io vi saluto, alla prossima, e ricordatevi quello che avete appreso oggi. E scusate se parlo lentamente. Grazie. Grazie.